Dunque, buongiorno ragazzi e ragazzi, oggi The Mirror Reloaded cambia leggermente argomento rispetto al solito e vi parla di film, di cinema, precisamente di Inside Out, il nuovo capolavoro della Disney Pixar uscito proprio ieri, 16 settembre, in tutte le sale italiane, uscito ormai diverso tempo fa nelle altre sale nel giro del mondo, nel giro del mondo, nel resto del mondo e niente, volevo parlarvi un po' delle mie opinioni riguardo al film in realtà questo c'entra anche con il canale, visto che comunque ho lavorato a Disneyland conosco molto bene Disney, ne ho già parlato spesso, quindi insomma ci sta, ci sta chi ne parli anche perché il cortometraggio che lo precede, cioè Lava, è interessante da un punto di vista musicale visto che contiene una canzone molto bella, come Corona Sonora una Corona Sonora, adesso non mi ricordo chi è l'originale, perché è tipo un artista hawaiano appunto la Corona Sonora di Lava, che è il cortometraggio che precede l'uscita, la visione più che l'uscita di Inside Out al cinema, è stata composta appunto proprio per il film e nella versione italiana è stata cantata da Giovanni Caccamo e Malika Iane ma non dilunghiamoci troppo, prima di iniziare in ogni caso avrei dovuto salutare questo ragazzo che si chiama Marco Chiodaroli, che mi ha scritto che se non lo salutavo nei video non mi guardava più e ti ringrazio, non sono nessuno, però ti ringrazio di avermi fatto questa richiesta allora, Inside Out di chi cosa parla? Parla della storia di Riley, che è una bambina di circa 11 anni che viene costretta dai suoi genitori a spostarsi dal Minnesota a San Francisco per motivi lavorativi legati appunto alla vita lavorativa del padre cosa succede? Lei arriva a San Francisco e non è contentissima della situazione che si ritrova perché la casa è brutta, la città è un po' caotica mentre a Minnesota lei poteva comunque uscire e andare a giocare con le sue amiche anzi con la sua migliore amica più che con le sue amiche andare a giocare ad occhi e quant'altro e invece si ritrova totalmente scombossolata un po' una situazione che tutti noi vivremmo se ci ritrovassimo da un giorno all'altro a dover abbandonare la nostra casa per andare a migliaia di chilometri di distanza cosa succede? Succede che le sue emozioni ovviamente sono molto scombussolate e il fulcro del film si svolge proprio nel suo cervello perché noi conosciamo le sue emozioni che sono rabbia, disgusto, paura, tristezza e gioia queste emozioni iniziano appunto a cercare di gestire le situazioni come possono ovviamente Riley è abbastanza scombussolata per cui c'è una gran parte di sé che più che essere felice più che gioire della nuova condizione è abbastanza disgustata, è abbastanza dubbiosa riguardo alla nuova città alla nuova scuola e quant'altro e anche tristezza insomma gioca un ruolo fondamentale in quanto chiaramente lei è triste perché non può più stare nel posto dove stava prima che cosa succede? Succede che a un certo punto lei, Riley, ha delle emozioni, dei ricordi base che costruiscono la sua personalità che però vengono mal gestiti a un certo punto da gioia e da tristezza che in un momento di crisi combinano un po' un pasticcio e vengono diciamo cacciate, fra virgolette, dal cervello di Riley vengono spazzate via in una zona molto distante in una zona che appunto non permette loro di aiutare Riley a superare determinati tipi di momenti di difficoltà e devono appunto ritornare al campo base, al quartier generale per cercare di mettere un po' in la situazione insomma come era prima ovviamente gioia cercherà in tutti i costi di rendere Riley il più felice possibile però scopriremo poi nel resto del film, non vi faccio spoiler che anche tristezza appunto avrà un ruolo fondamentale nel corso del film conosceremo anche un'altra, più che un'emozione un personaggio che si chiama Bing Bong che è l'amico immaginario di Riley un amico immaginario che con il passare del tempo è andato è stato un po' dimenticato, un po' lasciato anzi nell'angolo che appunto anche lui avrà un ruolo fondamentale poi per lo sviluppo del film e per la crescita di Riley stessa questa è un po' la sinossi del film l'ho visto ieri sera e l'ho trovato molto bello non è un capolavoro assoluto, chiariamo bene per me i capolavori assoluti della Disney fino adesso sono stati sicuramente Ralleone che è un capolavoro su cui tutti concordano e alla ricerca di Nemo personalmente questi sono i miei due film preferiti li ho trovati molto 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 migliori soprattutto appunto Nemo visto che comunque si parla sempre di Disney Pixar devo dire che da un punto di vista emotivo anche Toy Story 3 mi ha emozionato molto di più e diciamo che a livello di qualità molto alta potrebbe essere paragonato a un film come Ralph Spacca Tutto che io personalmente ho adorato essendo io un geek un geek anzi un geek più che geek geek di internet film che va a toccare delle corde molto sottili del nostro cuore è un film che potrà piacere sia ad adulti che ai bambini perché tutti si ritroveranno in determinati momenti della vita di Riley della vita emotiva di Riley e che altro dire è un bel film un bel film che appunto vi emozionerà che anche secondo me è un film che permette tante chiavi di lettura ecco secondo me da questo punto di vista quindi è un film che permette anche delle discussioni se vogliamo fra voi, fra i vostri genitori perché chiaramente le emozioni di un dicennio non sono le stesse emozioni di un genitore o di una persona in generale più adulta che comunque tiene in sé qualcosa del bambino infatti niente in realtà alla fine sembra essere dimenticato è soltanto molto 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 nascosto e questo è un po' anche il senso del film Inside Out è un film come ho scritto nella mia recensione che vi pubblico qua sotto che parla del passaggio dall'età diciamo dalla giovinezza all'età più che adulta adolescenziale è un film che si chiude secondo me con una frase molto emblematica che è anche un po' amara secondo me chiaramente non vi faccio spoiler però lascia spazio a diverse interpretazioni anche questa appunto chiusura del film che è un po' dal mio punto di vista leggermente anticonvenzionale rispetto al resto di film Disney questa è la mia recensione vi ringrazio per avermi ascoltato ci vediamo alla prossima ragazzi e ciao 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 ciao